Ciao a tutti i forniters, benvenuti e bentrovati sulle on-tube, eccoci in questo video per andare a vedere i negozi oggetti di oggi 6 ottobre, Shaquille O'Neal disponibile X-Men ancora disponibile, Incredibolide, Rubius, Torna il bundle All Might, doppio stile, Toshinori Yagi poi abbiamo Trasformazione di All Might, Torso Decorativo Preside Nezu, Piccone All Smite e poi Altra Emote Simbolo Tipace poi abbiamo il bundle classe 1A con Izuku Midoriya, più stile, Full Call l'Emote Quirk di Izuku, Dorso Decorativo All Might, altra skin, Katsuki Bakugo, doppio stile, da eroe Zaino Decorativo, Dorso Decorativo Zaino Granata poi abbiamo la skin Oshaku, Oraraka e il Dorso Decorativo Potenziamento di Oraviti il bundle dell'attrezzatura con i picconi ascia a busta nera sfascia cluster oraviti distrattrice e l'emote analisi degli eroi poi abbiamo il bundle Unione dei Villain con Himiko Toga con Oshensa Maschera Tomura Shigaraki con Oshensa Cappuccio e Dabi poi il Dorso Decorativo Macchina Succhia Sangue Nomu Junior Accendino a Fiamma Blu Piccone Lama di Mikko Toga Falce Degenerata Falcetti a Fiamma Blu e poi il Moth Gioia di Toga e Direzionare Degenerato Poi abbiamo il bundle Shoto Todoroki con Shoto Todoroki per l'appunto in doppio stile mezzo ghiaccio ali del gelo ruvente come dorso decorativo piccone lame calda e fredda emote mezzo ghiaccio a mezzo fuoco deltaplano velivolo dell'illustione gelata e uniforme dello UA come copertura ancora un bundle Kirishima e Ashido doppio stile zaino dorso decorativo zaino antiacido piccone ascia acida poi l'emote danza del festival della cultura emote Ejiro Kirishima Red Riot Unbreakable al secondo stile dorso decorativo scudo di Red Riot e piccone picchiatori di Red Riot il bundle Starlord, Thanos, Gamora, X-Men MK45, Iron Spider poi abbiamo stile distintivo Hope Eroica doppio stile eletta di Pandora poi abbiamo con le orecchie senza con gli occhiali o senza copertura Acque del Cambiamento bundle punto focale con concentrazione in doppio stile agente del futuro pacchetto Shack come dorso decorativo piccone e fissazione e agente del futuro deltaplano tavola delle visioni copertura visione controllata poi scendiamo abbiamo anche Vampa con dorso decorativo piromane poi il piccone vendetta incandescente deltaplano discesa ardente e copertura orora furgiato poi scendiamo abbiamo delle Moth fa uno spuntino Funky Fantasma zombificato e ramazza e svolazza poi abbiamo le skin che abbiamo visto ieri giornata tombale e horde di eroi Karol G attrezzatevi per il festival Trashy Jam Fast and Furious Nissan Skyline Centio i Fast Festival e Lego la cripto di Fortnite di ottobre pacchetto principi operazione all'uscente questi altri pacchetti qua che conosciamo bene più il pacchetto scala livelli e anche il pacchetto salva il mondo che non è disponibile da Nintendo Switch termina qui il negozio oggetto di oggi ragazzi mi raccomando un bel mi piace iscrivetevi al canale e ci vediamo presto con altri video ciao a tutti ciao a tutti